Arriviamo all'appuntamento come si concerna ad un derby, carichi con la giusta voglia. Sappiamo che per noi è una partita importante, per la città è una partita importante, quindi più di ogni altra cosa teniamo a fare un risultato positivo. Vadova è stata una partita strana, che ha mostrato le nostre fragilità, nel senso che abbiamo preso il primo gol e ci siamo un po' disuniti, questo non deve accadere. Sinceramente preferisco guardare il bicchiere mezzo pieno e vedere la reazione che c'è stata poi nel secondo tempo. Anche in considerazione del fatto di avere un arbitraggio un po' dubbio su alcuni episodi, soprattutto sono speranzoso. Abbiamo dato continuità sicuramente, ma questo lo vedo anche negli allenamenti, ha una voglia e un carattere che piano piano sta uscendo fuori. Ora dobbiamo cementarlo perché dobbiamo avere la barra più dritta e avere soprattutto un cammino più costante da qui in poi. Il Fano è un avversario che nel derby risulta temibile. Uno non deve guardare la classifica perché i derby sono partiti a parte, quindi non contano posizioni in classifica, nomi dei giocatori, ma conta chi dà tutto in campo. Conta la voglia di portare a casa un risultato che è fondamentale. Quindi sinceramente non voglio essere presuntoso, ma io guardo in casa mia, non guardo troppo al Fano. Però il tuo è stato l'ultimo gol in un derby con il Fano. Quali ricordi hai di quella serata? Belli perché comunque era da poco scomparso Cesco che era uno dei nostri tifosi più accaniti. La curva, la piazza ci tenevano molto che in suo onore vincessimo quella partita e così abbiamo fatto. Io da quando sono a Pesaro ho giocato tre derby e non ne ho perso nemmeno uno. E non intendo sicuramente cominciare da domenica prossima. Però questa volta sarà un derby senza tifosi. Ma i tifosi sentono più di ogni altra questa partita. Ve lo stanno facendo recepire? Lo avete capito in settimana? Sì, sicuramente lo fanno capire, ce lo dimostrano. Nel mondo odierno, con i social, con tante cose, vediamo che la città è in fermento, la nostra tifoseria è in fermento. Ma per una partita che ha un doppio valore. Però diciamo che ci hanno seguito e ci stanno vicini dall'inizio del campionato, io da quando sono qui. Ed è sinceramente triste non poterli vedere allo stadio, ma in generale parlo proprio. I stati vuoti ci stanno togliendo un po' di quella passione, anche un po' di quella rabbia agonistica, di quella voglia che ti viene quando senti il tuo popolo urlarti dietro, incitarti. Quindi spero e mi auguro che possano tornare al più presto perché tutto il calcio ne ha bisogno dei tifosi, non solo noi che giochiamo.